Penso che non sarà semplice per tutte le squadre venire qua in Polonia e cercare di far risultato, sicuramente per noi è stata una partita difficile, siamo contenti di venire via con un punto, sicuramente anche i nostri rivali faticheranno molto qui contro la Polonia. Come ho già detto ci sono delle giornate nelle quali non riesci a giocare al massimo e il tuo compito in questi giorni qua è quello di riuscire a uscire dal campo senza doverti poi pentire di com'è giocato, di com'è avresti potuto giocare meglio. Siamo usciti dal campo con un punto e insomma non è affatto da sputarci sopra un risultato del genere. Sappiamo che in questo girone tutte le partite saranno difficili, Montenegro insomma era una delle favorite prima, sicuramente dopo aver pareggiato in casa contro l'Ucraina avremmo preferito venire qua e vincere, però insomma cerchiamo di riuscire a tirare fuori il massimo da tutte le nostre prestazioni, per i tre punti avremmo dovuto giocare meglio, non ci siamo riusciti quindi va bene così.